asu di endless love ha un marito che ama alla follia lontano dal set della serie più amata su canale 5 eccoli insieme nel giorno del loro matrimonio melisa asli pamuk è una famosa attrice turca conosciuta per i suoi ruoli in serie televisive di grande successo come l'acclamata endless love titolo di punta nei palinsesti pomeridiani di canale 5 grazie al suo talento e al suo fascino è diventata una figura di spicco nel panorama televisivo turco nasce nei paesi bassi 33 anni fa proveniente da una famiglia con profonde radici turche originarie di iskenderan ha trascorso la sua infanzia e adolescenza nei paesi bassi dove attualmente risiede nonostante non avesse inizialmente pianificato di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo la sua passione per la recitazione si è sviluppata durante il periodo formativo ha frequentato corsi di recitazione che l'hanno preparata per il futuro nel mondo dello spettacolo la sua carriera ha preso il via in turchia con la partecipazione a uno spot pubblicitario e poi il suo primo ruolo cinematografico che dire della vita sentimentale lontano dai set che la vedono costantemente impegnata non è affatto turbolenta come si vede nelle serie turche dove figura come protagonista endless love asu innamoratissima nella vita reale altro che kemal il successo di melisa asli pamuk è esploso con la sua partecipazione la ragazza e l'ufficiale e l'amatissima endless love dove interpreta il personaggio di asu cosquoglu il suo ruolo in queste serie le ha portato una popolarità crescente consolidando la sua posizione come una delle attrici più apprezzate del panorama televisivo turco bellissima e con un passato da modella nella serie che vediamo in tv ogni giorno è attualmente vicino a kemal l'abbiamo vista amante di emir il perfido marito di nihan si tratta di pura finzione siccome quello che accade nella sua vita sentimentale lontano dalle videocamere è ben diverso questo è il giorno del suo matrimonio amore e complicità alle stelle con suo marito la splendida attrice è sentimentalmente legata a yusuf yasici calciatore di rilievo che milita nella squadra francese del lil la coppia a partire dal 2023 ha condiviso dolci momenti della loro relazione attraverso i social media mostrando al pubblico un lato tenero della loro vita insieme nonostante la notorietà di entrambi scelgono di vivere la loro relazione con discrezione lontani dalle luci dei riflettori e dall'attenzione dei media queste sono le uniche meravigliose immagini che hanno deciso di regalare ai loro tantissimi fan che li seguono e li amano insieme